Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. L'intera vicenda è ancora da chiarire e i carabinieri giunti sul posto sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il modo in cui il malvivente o i malviventi hanno messo a segno il corpo ai danni dell'anziana donna. L'85enne, negli attimi di agitazione, è caduta a terra in casa riportando lievi ferite. Le sue condizioni non sono gravi. Intanto il malfattore ha fatto perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine indagano. Il corpo senza vita di Carlo Formigoni, il noto regista novantenne di origine lombarda da tempo residente ad Ostuni, è stato trovato all'alba di ieri sugli scogli della spiaggia di Savelletri. Si erano perse le sue tracce nei pressi di Savelletri di Fasano. Le intense ricerche via mare e via terra coordinate dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, della capitaneria di Porto e dei carabinieri non hanno portato e non hanno purtroppo avuto epilogo positivo. Si ipotizza un gesto volontario dell'illustre maestro. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, il presidente Luca Dell'atti ha nominato la dottoressa Ivana Colizzi vicepresidente dell'istituzione, delegata a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento. Il Buon Gusto delle Malerbe è il titolo del corso per il riconoscimento delle erbe spontanee commestibili, che si tiene presso la sede del Gall Alto Salento ad Ostuni, in Contrada Licuti. L'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi e Brindisi Provincia ed è a cura del professor Felice Suma, modera il professore Angelo Zurlo. Da oggi e fino a domenica 11 febbraio, presso lo Slow Cinema Ostuni, in doppia programmazione, Io Capitano di Matteo Garrone alle 8.15 e C'è ancora domani di Paola Cortellesi alle 20.30. Da oggi e fino al 10 febbraio, presso la confraternita del Carmine, si cellano le solenni 40 ore, alle 16 adorazione eucaristica, alle 19 la Santa Messa. E' deceduta all'età di 56 anni a Paresida, ma cado in Francioso. La celebrazione sequiale si tiene oggi alle 17 nella parrocchia dei Santissimi Medici. Sentite condolianze alla famiglia. La farmacia Dalò, effetto a quest'oggi, il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli poco nuvolusi per l'intera giornata. Venti deboli, temperature stabili, mare poco mosso. Citazione odierna, dove le parole non arrivano, la musica parla. Grazie per aver preferito la nostra informazione.